Ciao, piacere, mi chiamo Alice e faccio parte di un gruppo di 9 ragazzi in tutto che frequentano la scuola Gabriele D'Annunzio. 8 ragazzi fanno parte della classe quarta scientifico e un altro ragazzo fa parte della quarta biologico. Abbiamo scelto di aderire a questo progetto, ovvero un progetto che cerca di avvicinare le persone al fenomeno dell'immigrazione, dei rifugiati, dei profughi. Quindi noi gruppo di giovani abbiamo aderito a questo progetto perché secondo noi è molto importante che tutte le persone, giovani, bambini, anche adulti, anziani, capiscano e sappiano cosa succede in realtà dietro tutte queste storie, tutte queste persone. Molte volte si sentono, oltre che in televisione, sui social network, nei luoghi pubblici, frasi molto tristi di persone molto ignoranti che parlano senza sapere e danno voce, danno aria alla bocca senza conoscere la verità. E' una cosa molto triste perché in realtà prima di parlare di ogni cosa, ma soprattutto di queste cose che sono molto importanti e oramai sono all'ordine del giorno, ovvero fanno parte della nostra quotidianità, secondo noi è molto importante che tutti vengano informati su tutto ciò che accade, su tutto ciò che è dietro a queste storie. Ok. Ok. Ok.